Musica Passa in consiglio regionale la mozione della Lega, la soddisfazione dell'assessore Sertori, un altro passaggio importante verso la definizione del futuro della sanità in provincia di Sondrio. Polifunzionale di nome è di fatto, dopo Sagra della Mela e Concerti, l'ampia struttura da quest'oggi è il quinto centro per la campagna di vaccinazione massiva della provincia. Il Consiglio provinciale approva all'unanimità la mozione sulla variante che permetterà la realizzazione di impianti che collegheranno i due versanti sciistici di Livigno, il presidente della provincia Elio Moretti, rispetto del territorio e nuove opere generatrici di economia. 170 nuovi iscritti per l'Associazione Italiana Donatori Organi della provincia di Sondrio. Buona la risposta dei giovani, funziona la campagna di comunicazione indirizzata alle scuole. Alto il numero dei trapianti nonostante i problemi della sanità. Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Telesondrio News. Il ritorno al Morelli delle tre alte specialità e delle attività pre-Covid, un nuovo ospedale di Sondrio che surgerà sull'area esistente, mantenendo le parti già modernate. L'approvazione in Consiglio regionale della mozione presentata dalla Lega riguardo al miglioramento dell'offerta sanitaria e sociosanitaria in provincia di Sondrio, dichiara soddisfatto l'assessore regionale Massimo Sertori, è un altro passaggio importante verso la definizione del futuro della sanità in provincia. Sentiamo. Si torna a parlare del futuro della sanità provinciale e le notizie che arrivano da Palazzo Lombardia farebbero intravedere un avvenire tutt'altro che fosco, soprattutto per l'Alta Valle, che con il Morelli di Sondalo di fatto trasformato da oltre un anno in ospedale Covid-19, temeva di non poter più riavere il proprio ospedale con l'operatività pre-pandemia. Così non sarà e l'approvazione in Consiglio regionale della mozione presentata dalla Lega rappresenta, dice l'assessore regionale a enti locali e montagna Massimo Sertori, un altro passaggio importante verso la definizione del futuro della sanità in provincia di Sondrio. Una volta rientrata la pandemia e entra nel dettaglio Sertori, i presidi ospedalieri di Chiavenna e Morbegno saranno adeguati in base a quanto definito nel piano del Politecnico, così come integrato e modificato dalle conferenze dei sindaci coordinate dalla provincia. L'ospedale Morelli di Sondalo sarà riportato alle sue funzioni pre-Covid, comprese le tre alte specialità, e per quanto riguarda l'ospedale di Sondrio, l'obiettivo è quello di costruire una nuova struttura nell'attuale area, mantenendo le parti già modernate come ad esempio il pronto soccorso, la piazzola dell'elisoccorso e i blocchi operatori. Recentemente in provincia di Sondrio è stato potenziato anche il servizio sanitario di emergenza-urgenza e, sottolinea l'assessore, sia i promedimenti in essere sia il confronto sul territorio, a tratti anche aspro, hanno gettato le basi per costruire insieme l'obiettivo di mirare al massimo dell'efficienza per il sistema sanitario della provincia, un territorio interamente montano che inevitabilmente ha costi maggiori rispetto ad altri luoghi. Secondo Sertori si tratta di un percorso difficile ma dovuto. In questo anno, dice, spesso ha lavorato in silenzio senza rispondere agli attacchi strumentali, convinto che per addivenire ad una soluzione la più condivisa possibile sia necessario confrontarsi con chi legittimato dalla rappresentanza istituzionale. Tutto questo ha portato a dei risultati. Polifunzionale di nome e di fatto, noto per aver ospitato diverse edizioni della Sagra della Mela e dell'Uva e numerosi concerti di successo, da oggi il polifunzionale di Villa di Tirano è il quinto centro della campagna vaccinale massiva della provincia di Sondrio. Primo giorno di vaccinazioni per circa 150 persone, per una campagna che durerà almeno quattro mesi. Soddisfatti i primi vaccinati. Il servizio. Partenza con qualche intoppo di natura informatico-burocratica superato peraltro velocemente per il quinto centro vaccinale della provincia allestito al polifunzionale di Villa di Tirano è attivo da stamane. L'ampia struttura che negli anni ha ospitato la Sagra della Mela e dell'Uva e numerosi concerti si aggiunge, dopo una prima parentesi alcuni mesi fa dedicata alla vaccinazione degli ultraottantenni, ai centri di Sondrio, Sondalo, Morvegno e Chiavenna. Un polifunzionale dunque di nome e di fatto, contenitore sia di iniziative legate allo svago che di operazioni salvavita come quella della vaccinazione massiva. Un centro massivo in più, finalmente sperando di arrivare il primo possibile a raggiungere questo 70% o anche più di vaccinazione che forse riusciamo a cominciare a rivivere tranquilli. Spazi ampi che a pieno regime potranno ospitare fino a cinque linee vaccinali, numerosi parcheggi. Il polifunzionale di Villa di Tirano ha davvero tutte le carte in regola anche per assolvere questo compito che certo quando è stato progettato nessuno si sarebbe immaginato. C'era Sondalo e Sondrio e mancava un tassello a metà e tra l'altro un posto comodo per arrivare facilmente, parcheggi e tutto come dicevo prima e poi anche per facilitare i miei cittadini prima di tutto ma i comuni e anche le mitrofi. Un'altra particolarità di questo quinto centro vaccinale riguarda la sua gestione, un unicum in provincia di Sondrio. Ad occuparsene sia sotto il profilo burocratico che infermieristico e medico sono infatti due cooperative, la Valcura e la IML. Siamo aderito alla manifestazione di interesse che è stata bandita da ATS e in sintonia anche con la cooperativa Valcura. Ci siamo imbarcati in questa esperienza e siamo molto contenti di aver iniziato oggi e mi sembra che a parte qualche piccolo intoppo in avvio le cose stiano andando molto bene. Un giorno importante è quello di oggi anche per il medico di Villa di Tirano che già aveva seguito la campagna dedicata agli over 80. La soddisfazione è tanta in quanto si cerca di dare alla popolazione un servizio molto soddisfacente per venire incontro alle persone, specialmente quelle anziane, e non creare disagi. I primi a promuovere questa campagna massiva che a Villa di Tirano, considerati anche i richiami, dovrebbe durare non meno di quattro mesi, sono gli stessi vaccinati, oggi quasi 150. Ho appena finito, sono arrivato un quarto d'ora fa, ho fatto l'accettazione, sono passato dal medico per l'anamnesi e poi subito il vaccino, adesso aspetto un quarto d'ora, poi posso... Zero disagi, posto ampio? Nessun disagio, si organizzatissimi, posto ampio. Lei da dove viene? Da Ponte in Valtellina. E come mai a Villa di Tirano e non a Sondrio? Perché il primo posto disponibile era questo, per cui ho scelto questo. Sì, 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 sono contenta più che altro, sia... Vabbè, io sono giovane e comunque adesso il virus attacca tutti, ma poi anche per mia nonna e i miei familiari che sono sempre a contatto, sono contenta di averlo fatto. Come trova l'organizzazione di Villa di Tirano? Ma guardi, io sono arrivata 5 minuti fa, ho già finito, quindi meglio di così. Con l'età io ancora, ho 55 anni, dovevo ancora aspettare, ma come faccio badante per una signora anziana? È fatto anticipato. All'ingresso del polifunzionale, il benvenuto, con tanto di misura della febbre, affidato ai volontari di protezione civile, che anche a Villa di Tirano, insieme alla Proloco, si sono messi a completa disposizione dell'operazione vaccinazione massiva. È una cosa nuova, una cosa... Noi abbiamo già... abbiamo fatto gli over 80 così, già 3, 2, 3 mesi, però oggi è già una cosa più, 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 più... Però come inizio siamo andati bene. Discussa ieri durante il Consiglio Provinciale la variante al piano di governo del territorio per la realizzazione di impianti di collegamento tra i due versanti sciistici di Livigno. Il Presidente della provincia, Elio Moretti, rispetto del territorio e nuove opere generatrici di economia dovranno viaggiare insieme. Il servizio. La concretizzazione di un collegamento tra i due versanti sciistici attraverso la realizzazione di impianti a Livigno. Questo che rappresenta uno dei progetti in prospettiva dei giochi olimpici invernali del 2026, certo, ma che punta comunque oltre all'appuntamento olimpico nella visione lungimirante di un restyling connesso all'indotto turistico della provincia, uno dei punti discursi durante il Consiglio Provinciale tenuto nel pomeriggio di ieri. Presidente Moretti, ieri il Consiglio Provinciale, una seduta piuttosto articolata, tra i punti all'ordine del giorno e anche il piano del governo del territorio riguardante l'unificazione dei due versanti sciistici dell'Alta Valle. Sì, la provincia ieri durante il Consiglio ha votato questo all'unanimità, peraltro, questo parere sul PGT del Comune di Livigno. Tra l'altro devo dire che il Comune di Livigno sta facendo un lavoro veramente importante, egregio si sta portando avanti, sta facendo delle opere molto significative sia per l'attuale momento ma anche in prospettiva Olimpiadi e il collegamento dei due versanti è una di quelle opere che si può collocare in questo contesto. Quindi la provincia non ha potuto che esimersi dall'esprimere questo parere, l'ha fatto in maniera, torno a ripetere, unanime, ma perché siamo assolutamente convinti e consapevoli che in quella direzione bisogna andare per poter realizzare tutto quanto serve per lo svolgimento delle Olimpiadi. La parola d'ordine è il leitmotiv di quello che rappresenterà per l'intera provincia un'occasione come quella dei giochi olimpici invernali e dunque guardare al futuro, rivalutare quanto in potenza un territorio composto da 5 mandamenti e 77 comuni nella sua interezza possa offrire agli abitanti e ai visitatori di oggi e del futuro, ma niente cattedrali nel deserto. Rispetto del territorio e nuove opere generatrici di economia dovranno viaggiare assieme. Questa è una straordinaria opportunità per realizzare delle opere che servono sì per lo svolgimento delle Olimpiadi ma che poi resteranno sul territorio. Tra l'altro la provincia di Sondrio ha questa deroga che è data dalla legge 19 che permette alla provincia di entrare nel merito anche dei domini sciabili entrare nel merito chiaramente nel rispetto delle norme ci mancherebbe altro però è una deroga che ha solo la provincia di Sondrio quindi in questo momento è uno strumento che la provincia intende attuare perché dà questa possibilità alla provincia di velocizzare questo tipo di autorizzazioni. È chiaro che bisogna trovare un giusto compromesso tra il rispetto del territorio che è sacrosanto anche perché il territorio ce lo siamo trovati abbiamo il dovere di tutelarlo ma è altrettanto chiaro che qui a differenza magari di quanto traspare un pochettino dal PTR e dalla regione infatti ieri mi sono permesso di sollevare anche questo tema anche perché fa parte delle osservazioni che proprio ieri ho inviato a Regione Lombardia sul loro PTR che è giusto considerare il valore e la valenza del territorio ma ci vuole anche la sensibilità di capire che il nostro territorio con gli impianti di risalita genera e crea economia e permette alla gente di rimanere a lavorare nelle nostre montagne. 170 donatori anche in piena pandemia i numeri non sono a livello degli anni passati ma l'Aido, sezione di Sondrio, può ritenersi soddisfatta buona anche la risposta dei giovani grazie alla propaganda nelle scuole rimane alto il numero dei trapianti nonostante i disagi legati al Covid si registra infatti una diminuzione soltanto del 10% rispetto agli anni passati Simone Belletti una sede provinciale con sede a Sondrio e 10 gruppi comunali molto attivi sul territorio l'Aido, associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule è una realtà che copre l'intera provincia si sono concluse da poco le assemblee intermedie delle varie sezioni tutte tenutesi rigorosamente in modalità telematica proprio la tecnologia e i social hanno consentito di mantenere produttiva l'attività del sodalizio come in ogni associazione l'anno di pandemia ha certamente inciso sui vari parametri la pandemia ha influito sui dati specialmente relativi al prelevo di organi in provincia l'anno scorso sono stati fatti 20 donazioni di corne no, 10 donazioni di corne e 28 teste di femore e 0 multi organi cioè nessun organo è stato prelevato l'anno scorso evento che non è mai accaduto in provincia questo perché? è successo questo perché le disposizioni Covid della regione Lombardia hanno di fatto esautorato l'ospedale di Sondolo da poter gestire malati in situazioni critiche cioè i pazienti in situazioni critiche venivano trasportati presso ospedali fuori provincia e questo purtroppo ha vanificato la possibilità di poter intervenire con i prelevi di organi si è decisamente abbassato il numero degli iscritti logica conseguenza dell'emergenza Covid-19 diciamo che tutti i gruppi hanno operato bene nell'anno scorso abbiamo fatto nonostante le problematiche della pandemia circa 170 iscritti è un numero comunque decisamente inferiore a quello degli anni precedenti in cui viaggiavamo dai 5 ai 600 iscritti però tutto sommato non è andata male quest'anno sino ad ora siamo a quota 55 stretto il legame con le altre associazioni del dono ADMO e AVIS con cui vengono condivisi gli stessi valori e le stesse finalità i giovani stanno fornendo un'ottima risposta abbiamo incontrato i giovani più di mille giovani li abbiamo incontrati nelle scuole operando come ormai facciamo quasi sempre in associazione con AVIS e con ADMO e abbiamo riscontrato notevole interesse da parte dei giovani i quali si sono anche iscritti hanno fatto molte domande e diciamo queste tematiche li trovano molto sensibili Resta alto il numero dei trapianti nonostante gli inconvenienti e i disagi legati al covid a livello nazionale si registra nell'ultimo anno una diminuzione del 10% è passati da 3.800 trapianti circa 3.400 quindi diciamo che c'è stata un'ottima reazione nonostante ci siano state situazioni veramente veramente critiche anche perché i pronto soccorsi, le terapie sono andate sotto stress per la problematica del covid e questo sicuramente in certi momenti dell'anno ha impedito proprio la macchina dei trapianti di poter operare sul territorio Una scuola che diventi occasione di inclusione sociale e di conoscenza dei disturbi dello spettro autistico su iniziativa dell'ufficio scolastico territoriale di Sondrio l'incontro online tra l'onorevole Davide Faraone e gli studenti di Sondrio e di Cremona vediamo L'inclusione come forma di arricchimento al centro dell'incontro organizzato dagli uffici scolastici territoriali delle province di Sondrio e Cremona da una parte gli studenti delle due città lombarde dall'altra l'onorevole Davide Faraone, già sottosegretario Miur autore del libro Con gli occhi di Sara, un padre, sua figlia e l'autismo un'iniziativa dal significato alto e che nasce dalla volontà di creare una nuova consapevolezza che parta dagli stessi giovani spesso coetanei, compagni di classe, di quei ragazzi speciali e dei quali ancora tanto c'è da imparare Presenti all'incontro anche il dirigente tecnico ed esperto di politiche per l'inclusione Raffaele Ciambrone, oltre al referente per l'inclusione dell'UST di Sondrio Franco Mottalini e dal prefetto di Sondrio Salvatore Pasquariello Partendo dall'esperienza del libro scritto da Davide Faraone che riguarda proprio sua figlia che è affetta da questo disturbo abbiamo voluto cercare di spiegare ai ragazzi come anche loro devono cercare di rendere la propria classe inclusiva cercando di capire la natura di questa patologia soprattutto il fatto che questi ragazzi non sono pericolosi ma è necessario avere un approccio di un certo tipo credo che questo serva a tutti perché abbiamo diverse famiglie nella nostra provincia che hanno figli che sono affetti da autismo e tante volte si sentono discriminati o comunque non si sentono adeguatamente inclusi all'interno della scuola C'è un bisogno forte di creare una scuola inclusiva in un paese come il nostro in cui l'Istituto Superiore di Sanità calcola un bambino su 77 affetto da disturbi dello spettro autistico dati che registrano un progressivo aumento nel corso degli anni da questo primo incontro sono nate diverse domande sono nate diverse questioni che le scuole vogliono portare avanti è giusto che magari l'anno prossimo anche prendendo come elemento la revisione del PEI ci sarà il nuovo piano per l'inclusione degli studenti con disabilità si arrivi anche ad approfondire tutte queste tematiche e anche a realizzare dell'attività di inclusione all'interno della classe di studenti autistici o comunque diversamente abili perché non sono un limite per la classe ma sono una ricchezza per tutta la scuola Sale il numero degli associati Alta Valle e Alga Stellina il gruppo di acquisto solidale che privilegia il consumo di prodotti bioetici una filosofia che non implica soltanto il modo di fare la spesa ma che modifica gli stili di vita fare parte di un gruppo gas significa agire nella realtà sociale e politica per migliorare le condizioni di vita lottare contro lo sfruttamento delle persone in difesa della natura e della dignità umana Roberta Cervi 70 soci in provincia di Sondrio di cui la metà in Alta Valle Gas Stellina, gruppo di acquisto solidale cresce sempre più irrorando lo stile di vita di tante famiglie che acquistano prodotti di uso quotidiano privilegiando il tema bioetico Nato 11 anni fa è un movimento che crea solidarietà e consapevolezza su occupazione, condizioni di lavoro, cultura e prodotti tradizionali più in generale agisce e lotta nelle realtà sociali e politiche per migliorare le condizioni di vita in difesa della natura e della dignità umana In questi anni ha fatto molto il passaparola in Alta Valle per far conoscere il Gas Stellina ha organizzato degli incontri con la popolazione su varie tematiche sociali ed ecologiche Oggi ha più di 70 iscritti di cui 35 famiglie fanno parte qua dell'Alta Valle che condividono gli stessi valori del gruppo diciamo principi del gruppo oltre all'interesse dell'acquisto di prodotti ecosostenibili che rispettano la natura e i suoi ritmi alimenti biologici da culture biodinamiche privilegiando la filiera corta e a chilometro zero Gastellina la cui sede a Sondrio è un'associazione libera composta da volontari tra loro nessuna gerarchia ma tanta consapevolezza sulle implicazioni sociali e ambientali delle scelte di acquisto Ogni associato del Gastellina segue un articolo particolare che sia alimentare che sia di altro tipo quindi segue tutta la filiera dall'ordine sul nostro sito abbiamo un sito www.gastellina.org l'ordine è molto semplice da parte degli associati ovviamente con password riservata quindi segue questa cosa qua quando arrivano i bancali con la merce cura lo smistamento assieme ad altri e poi avvisa sul nostro gruppo Whatsapp avvisa tutti gli associati di venire a ritirare le proprie cose Tra le priorità del gruppo la valutazione dell'impanto ambientale è buona cosa riciclare gli imballaggi ridurre l'inquinamento del trasporto rispettare i ritmi naturali con il consumo di cibi di stagione i principi di gas sono quelli di una convivenza ideale fra esseri umani in armonia con la natura Tra le priorità che ci diamo ovviamente abbiamo parlato di impatto ambientale di aspetti sociali e magari c'è quello della solidarietà perché è gruppo di acquisto solidale una è rivolta verso di noi e quindi ci diamo una mano nel fare tutti questi piccoli lavori qua gas si caratterizza per tre aggettivi piccolo, locale e solidale per permettere un'organizzazione semplice per rinsaldare il legame tra cittadini e il territorio che abitano per stabilire un canale fiduciario tra produttori e consumatori alimentato dalla condivisione di intenti la merce non solo più come prodotto ma elemento di una relazione noi diamo moltissima importanza alla S di solidale puntiamo alla consapevolezza degli impatti sociali e ambientali nelle nostre scelte di acquisto scegliendo produttori che rispettano la sicurezza e i diritti dei lavoratori se possibile cerchiamo di rifornirci presso piccole aziende locali per sostenerli e per evitare che vengano schiacciati dalla produzione industriale e dalla grande distribuzione organizzata Gastellina promuove ogni anno una raccolta fondi o pesca dal proprio fondo di solidarietà Spartiacque e Forum Movimenti per l'acqua i destinatari 2021 far parte di un gas vuol dire soprattutto chiedersi cosa c'è dietro a un articolo sviluppando un consumo critico personale a vantaggio di una vita migliore cominciando da adesso volevo sempre avvicinarmi a un gruppo di acquisto ma io sono straniera non conoscevo nessuno che appartenesse a questi tipi di gruppi finché ho conosciuto una mia amica di Tiollo nella mia vita diciamo il 90% di acquisti li faccio tramite gas il Giro d'Italia Under 23 non sarà soltanto una bella vetrina turistica per il mandamento di Sondrio e per Aprica ma dal punto di vista strettamente sportivo rappresenta anche il campo gara per i futuri campioni il Giro Giovani nel corso degli anni ha infatti lanciato ciclisti del calibro di Francesco Moser e Marco Pantani ce ne parla Paolo Croce da Francesco Moser a Giovanni Battaglini da Gian Battista Baronchelli a Marco Pantani sono solo alcuni dei campioni che inizio carriera hanno vinto il Giro d'Italia Under 23 le tappe valtelinesi sono state presentate ieri a Sondrio nelle sale della provincia il 9 giugno la settima tappa Sondrio-Lanzada di Campomoro una frazione di 120 chilometri con 3.000 accentuamenti di dislivello interamente percorsa nel mandamento di Sondrio è uno sport che permette di far vedere le meraviglie di un territorio e quindi è un binomio vincente perché parliamo di sport, parliamo di turismo e parliamo in questo caso della Baltellina devo dire che anche proprio il circuito che è stato disegnato e che è stato pensato per questa tappa credo che sia veramente un ideale per promuovere il nostro territorio per far capire non solo agli atleti ovviamente ma ci auguriamo a tutti gli spettatori quanto sia bello e quanto possa essere bello venire a pedalare non solo a livello organistico ma anche diciamo così per piacere amatorialmente qua nella media valtellina a Sondrio e il suo circondario fino alla Valmanenco il 10 giugno l'ottava tappa Prica Andolo che vedrà per il terzo anno consecutivo la località orobica ospitare il Giro d'Italia Giovani parole di elogio per la Kermess sono arrivate anche da Elio Moretti presidente della provincia dal consigliere con delega al turismo Franco Angelini dal presidente della CM Valtellina di Sondrio Tiziano Maffezzini e dal sindaco di Lanzada Cristian Nana naturalmente è intervenuto anche il sindaco di Aprica Dario Corvi il territorio della Valtellina ormai con questa offerta cicloturistica che la provincia ha preso come impegno e ogni anno rinnoviamo con questo protocollo per me molto importante e che permette sostanzialmente di ruotare un po' l'offerta sia dal punto di vista amatoriale che dal punto di vista professionistico e questo secondo me è l'elemento di raccordo molto forte su cui bisogna puntare cioè sempre avere l'idea che ci sono dei professionisti che fanno questo tipo di attività ma poi c'è un pubblico di giovani e di amatori che in realtà è molto vasto e rappresenta una fetta importante anche dal punto di vista turistico per il nostro territorio coordinatore come sempre delle tappe del Giro in Valtellina il direttore del Consorzio Turistico Media Valtellina Pierluigi Negri da parte di tutti i protagonisti parole di grande orgoglio per questa due giorni valtellinese del Giro d'Italia Giovani un vero e proprio primo grande evento sportivo dopo la tappa del Giro d'Italia del 29 maggio in Val Chiavenna presente all'incontro Paolo Pedrazi nuovo presidente della Federazione Ciclistica di Sondrio e Michele Imparato memoria storica di questo sport in Valtellina e in Val Chiavenna è un qualcosa di straordinario mercoledì scorso eravamo a Chiavenna per il Giro d'Italia professionisti oggi siamo qui in provincia per la presentazione delle due tappe della provincia di Sondrio due tappe degli Under 23 e sicuramente questo contribuirà a fare in modo che tanti giovani si avvicinano a questo sport delle due ruote che per noi è uno sport importantissimo è un bellissimo sport e allora buon Giro d'Italia e Giro Under 23 a tutti e chissà che non scopriremo sulle strade di Valtellina e Val Chiavenna un nuovo Marco Pantani termina con una sconfitta casalinga il cammino della Pezzini Morbegno nella prima fase del campionato di Serie C Silver di basket a imporsi al Palamattei la capolista Gorla Cantù sabato scatta la fase orologio con i morbegnesi quarti in classifica che saranno impegnati nuovamente contro la formazione canturina questa volta in trasferta vediamo si chiude con uno scivolone interno la prima fase del campionato di Serie C Silver di basket per la Pezzini Morbegno Gorla Cantù si è confermata una delle squadre più quotate del girone C sbancando il Palamattei con il punteggio finale di 62-79 terza sconfitta consecutiva per i valtellinesi che terminano il minigirone con quattro vittorie e sei battute d'arresto piazzandosi al quarto posto della graduatoria ora la fase d'orologio con due partite in casa e due in trasferta al termine di questi quattro match si sommeranno i punti con quelli della prima fase le prime quattro classificate disputeranno i play-off l'ultima i play-out ovvero gli spareggi per non retrocedere la formazione morbegnese presentatasi all'appuntamento con troppi cerotti e assenze ha tenuto testa i canturini nel primo tempo poi i giovani avversari hanno cambiato decisamente passo nella seconda parte di gara meritando il successo prima cosa devo fare i complimenti alla squadra avversaria perché secondo me anche stasera ha fatto una grande partita noi abbiamo avuto le solite nostre difficoltà secondo me in attacco perché arriviamo a un certo punto comunque in alcuni momenti della partita dove non riusciamo più a grazie anche cioè grazie al di là del fatto che loro difendono molto bene noi proprio facciamo un po' facciamo un po' fatica arriviamo proprio a trovare delle situazioni non facili abbiamo giocato momenti alterni ma siamo sempre mancati al tiro non andiamo al tiro e quindi le partite difficilmente si vincono una bella squadra il Gorle ma secondo me era una partita ancora recuperabile anche quando eravamo sotto di 10 una prima fase dignitosa quella disputata dalla Pezzini che quest'anno ha rivoluzionato l'organico dopo l'abbandono di alcuni giocatori storici su tutti il capitano Pier Alessandro Favero numerosi gli infortuni accorsi in questa prima parte di stagione sono abbastanza soddisfatto perché comunque se vai a guardare la classifica abbiamo chiuso il quarto posto e il quarto posto vorrebbe dire fare i play-off e quindi se finisse così il campionato dopo la fase ad orologio di essere quarti vuol dire andare a partecipare ai play-off purtroppo devo dirti abbiamo vinto con due squadre noi abbiamo vinto con due squadre andate abbiamo vinto con due squadre al ritorno siamo partiti bene abbiamo perso almeno tre partite proprio non so per non buona volontà ecco sarà un po' cattivo dire questo ma io la vedo un po' così e nulla è perso ancora però chiaramente abbiamo migliorato e migliorato e migliorato è tutto per questa sera grazie per averci seguiti e arrivederci ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Telesondrio News e a